Ora c'è anche la firma di Boris Johnson. Il premier britannico ha siglato l'accordo commerciale tra Regno Unito e Unione Europea. Negli stessi istanti è arrivato il via libera all'accordo anche dalla Camera dei Comuni, che ha approvato il testo a larga maggioranza. 521 i voti favorevoli, compresi quelli dei lavoristi, 73 quelli contrari. Con questo accordo diventeremo un vicino amichevole, il migliore amico e alleato che l'Unione Europea possa avere. Lavoreremo mano nella mano ogni volta che i nostri valori e interessi coincideranno, soddisfacendo al contempo il desiderio sovrano del popolo britannico di vivere secondo le proprie leggi, le leggi approvate dal proprio Parlamento sovrano. Una formalità è il passaggio del testo alla Camera dei Lord. Poche ore prima della firma di Johnson, anche la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel avevano sottoscritto l'accordo. L'intesa entrerà in vigore a partire dalle 23 di questo giovedì, allo scadere cioè del periodo di transizione che segnerà l'effettiva entrata in vigore della Brexit.